Musica Dal 30 dicembre 2010 Gianni Galdenzi è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pesaro e dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Il comandante ha fatto un bilancio del primo mese di attività. Ho avuto un'eccellente accoglienza da parte dei miei collaboratori e da parte dell'amministrazione. Ho iniziato con quelli che sono i colloqui con tutti i miei collaboratori. L'entusiasmo da parte loro c'è, la volontà da parte mia di portare avanti quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione altrettanto. Speriamo di riuscirci insieme. Quali sono le novità delle introdotte? Nel primo mese già abbiamo, negli orari per intenderci dalle 17 fino alle 20 di sera, rafforzato la presenza della pattuglia piedata nell'ambito del centro storico, gestendo la flessibilità del personale interno. Cosa ne pensa della zona blu? Il mio dovere è quello di far rispettare quelle che sono delle norme che sono state emanate. Nei prime tre settimane di entrata in vigore di questa ordinanza, noi abbiamo svolto prevalentemente attività di prevenzione. Soprattutto nei primi tempi c'è stata una grande richiesta di informazioni sia negli uffici, al pubblico e anche tramite la centrale operativa. E del Vistaret? Noi non abbiamo del personale per poter presidiare tutti gli incroci, tutte le intersezioni semaforiche. Lo stesso fatto che la ZTL è presidiata anch'essa da delle telecamere dimostra che oggi il supporto tecnologico è indispensabile. Tutto deve essere fatto nel rispetto delle normative. Il 4 febbraio lei ha raggiunto i 20 anni di servizio. Cosa porta a Pesaro delle sue esperienze precedenti fatte a Fano e a Pian del Bruscolo? I primi sette anni li ho passati a Fano. È stata sicuramente un'esperienza utile perché mi ha consentito anche di capire come si lavora dall'altra parte della barricata. E quindi so quelle che sono le problematiche dei miei collaboratori. I 12 anni che ho lavorato, e ancora sto continuando a lavorare perché sono anche il comandante a Pian del Bruscolo, mi hanno aiutato da un punto di vista di relazione. Ho imparato che mettere insieme tante realtà diverse dà sempre un risultato che è superiore alla sommatoria delle singole realtà. Qual è il suo obiettivo? Di far apprezzare ai miei collaboratori, ma soprattutto alla cittadinanza, il nostro lavoro. Il nostro è un lavoro che molte volte non si vede, ma che produce risultati molto importanti. Tutto ciò che riguarda la sicurezza stradale, l'inosservanza di queste norme quasi sempre porta ad incidenti che possono avere anche conseguenze molto gravi. La risiede a Fano, come è stata accolta dalla città? Ho lavorato in molte realtà e ho cercato sempre di unire. Per cui il mio obiettivo è proprio questo, che anche qui, pur essendo fanese, di riuscire a farmi apprezzare anche dalla realtà pesarese.